Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi non potevo esimermi dal non raccontarvi la recensione di The Dark Descent of Elizabeth Frankenstein, tradotto in italiano come La buia discesa di Elizabeth Frankenstein, che è stato pubblicato da HarperCollins Italia e infatti io, prima di ricevere questo, l'ho letto in italiano grazie a loro che me ne hanno fornito una copia che ringrazio tantissimo. Allora, parto dalle premesse però, in tutto ciò, come sempre ovviamente, vabbè, io penso di non essere così lucida quando leggo Kirsten White perché secondo me lei sta realizzando tutti i miei sogni, cioè lei è l'autrice che sta facendo le cose vedendo ciò che a me piace, cioè fa cose che incontrano tantissimo il mio gusto, oltre ad essere bravissima secondo me, stilisticamente parlando, può piacere, non piacere, tant'è, però ha tutto, cioè mi ha presentato Lada, quindi io le sarò sempre grata per questo, ora mi ha presentato Elizabeth Frankenstein, che ok, sta per pubblicare il nuovo romanzo dedicato a The Slayer, che è qualcosa ambientato nel mondo di Buffy and the Vampire Slayer e manca solo, al prossimo giro se ci mette i Romanov o se ci mette una congrega di streghe, io smetto di leggere, ve lo dico, ve lo dico sinceramente, se mi piace anche The Slayer è fatta, cioè tre su tre, ok. Comunque, partiamo da La buia discesa di Elizabeth Frankenstein, mi spiace farvi vedere questa anche se secondo me la copertina originale è una cosa pazzesca, anche il paperback come ho io è bellissimo, ora lo poggio perché è un po' scomodino. Elizabeth Lavenza ha avuto un'infanzia un po' travagliata, ha perso i genitori e viene maltrattata continuamente, finché un giorno viene raccolta dal giudice Frankenstein mentre assiste a un episodio di violenza nei suoi confronti e decide di adottarla praticamente e di portarla con sé per fare compagnia al figlio Victor, che è un tipo un po' speciale, diciamo, molto carinamente. E quindi Elizabeth cresce con la famiglia Frankenstein, rendendosi però conto di diverse cose. Innanzitutto che la sua posizione è estremamente imbilico, estremamente delicata, perché non c'è mai certezza nella sua permanenza con la famiglia Frankenstein e che per questo dovrà lottare con le unghie e con i denti. Elizabeth conosce Victor e, diciamo, ne diventa ossessionata, ne diventa affascinata da un lato, però anche un po' spaventata e passerà il resto della sua vita a cercare di compiacerlo per tenerselo accanto e assicurare la sua posizione nella famiglia Frankenstein. Però si accorge abbastanza in fretta che Victor è un bambino, non problematico, perché problematico è fargli un favore, è un bambino malato, è un bambino che ha delle ossessioni e delle pulsioni molto perverse, dal punto di vista della desecrazione dei corpi, è ossessionato dalla morte, dal dominare la morte, trauma dovuto in parte anche alla morte della madre, ma non solo perché ce l'aveva già in precedenza. Una volta cresciuti, Victor diventa un medico brillante, cosa che ovviamente a Elizabeth è vietata, nonostante sia estremamente intelligente e molto dotata, però questa sua smania di ricerca lo porta in territori molto molto scuri e anche Elizabeth non sa più come stargli vicina, non sa più come controllarlo. Non vado avanti perché comunque questa è una storia che si ispira ovviamente al romanzo di Mary Shelley e alla figura di Victor Frankenstein, anche se Frankenstein Junior ci insegna a dire Frankenstein, lo dirò sempre questa battuta, non me la riesco a togliere. Comunque, quella a cui noi assistiamo in questo romanzo è la storia di un personaggio che non conoscevamo, del quale sapevamo molto poco e che ci svede, ci fa vedere. Da un lato la storia di Victor da tutt'altro punto di vista, dal punto di vista di chi è legato a lui e di chi ha vissuto il dramma familiare di convivere con una persona che è chiaramente malata, chiaramente instabile. Victor infatti è una persona malata, è pazzo, è completamente ossessivo in questa sua ricerca della dominazione della morte, perché come ha perso alcune persone care, ovviamente vuole dominarla in tutti i sensi e spinge le sue ricerche oltre il consentito, oltre anche a ciò che l'etica e la morale ti spinge ad accettare. E noi però seguiamo ovviamente la storia di Elizabeth. Elizabeth è un personaggio super controverso ed è il motivo per cui io ho amato alla follia questo libro. Non gli ho dato 5 stelline, gliene ho date 4 e lo premetto subito, ma comunque è un libro che ho davvero apprezzato e amato perché la figura di Elizabeth è qualcosa di centrale ma in maniera prepotente nella sua conflittualità ed è anche un po' il centro gravitazionale di tutto ciò che le accade attorno, anche se lei in realtà ha pochissimo potere sugli eventi. Lo stile di Kirsten White accompagna questa favola gotica che riprende chiaramente Mary Shelley in qualcosa di molto vago e blando, devo dire, un po' più nella figura di Victor ma la estremizza. Ovviamente passando dagli occhi di Elizabeth la estremizza, la rende ancora più cupa e malata e parla soprattutto anche di controllo, di paura, di tutti questi aspetti e di ciò che è consentito e ciò che non lo è. È una riflessione che avviene spesso ad esempio all'interno del libro ciò che è accettabile perché noi ci troviamo proprio di fronte a un personaggio che è tutto tranne che positivo, è un personaggio molto conflittuale, è un po' un'anti-eroina. Elizabeth è un personaggio che ha vissuto un fortissimo trauma infantile e che dovrà lottare con le unghie e con i denti per assicurarsi la propria posizione e quindi si trova fin da piccola a dover essere accondiscendente con Victor, a cercare di fare amicizia con Victor e con il quale creerà un legame che è veramente molto forte ma è un legame che è chiaramente malato, è un legame che non è sano e lei però subisce tantissimo ovviamente quella che è la pressione della sua condizione innanzitutto sociale, essendo stata adottata, anche se poi si scopriranno tanti risvolti sulla sua famiglia ma questo ne parliamo dopo e soprattutto dovrà fare i conti con quelle che sono le aspettative di genere dei ruoli femminili a cavallo tra l'Ottocento e il Settecento insomma questa è un po' l'epoca in cui noi ci andiamo ad inserire le aspettative di genere sono esattamente molto definite una donna non può aspirare agli studi, a una carriera anche quelle più brillanti anche lei che ha avuto la possibilità di istruire i fratelli di Victor e di studiare insieme a Victor finché Victor non è poi andato alla scuola di medicina e quindi lei non ha accesso agli studi superiori perché alle donne non era permesso eppure lei è un personaggio brillante, estremamente intelligente ma questa sua ossessione per salvaguardare la sua figura, la sua posizione la portano a essere un personaggio estremamente calcolatore dove nulla di ciò che fa è spontaneo è tutto un calcolo, è tutta una recita è tutto qualcosa che lei deve fare per essere accondiscendente con Victor da un lato e assicurarsi il benestare della famiglia Frankenstein perché sennò lei verrebbe cacciata in mezzo a una strada questa paura è la chiave di lettura di tutto il romanzo di tutte le sue azioni perché immergendosi in questa sua condizione in questo spavento, in questa possibilità che lei possa perdere tutto e tornare a essere menata a non mangiare da settimane eccetera in mezzo a una strada per lei è qualcosa di fondamentale che la guida e la ispira e infatti Elizabeth Frankenstein in questo volume è un personaggio che non riesce ad apprezzare fin da subito perché è un personaggio che è estremamente falso ma tu sei dentro la sua testa per tutta la narrazione e sai che lei finge qualsiasi movimento studia attentamente la prossima mossa cosa dire, come comportarsi perché è erenemente terrorizzata questa chiave di lettura poi ti porta un po' a considerare anche tanti aspetti della sua vicenda all'essere ossessionata dall'affetto di Victor perché solo quello sarà ciò che la salverà anche quando capisce che in realtà Victor ha dei piani molto più violenti nei suoi confronti ha dei piani molto più macabri nei suoi confronti e sta portando avanti un'attività illegale non etica e chiaramente sta delinquendo non solo in ciò che lei pensava ma si scoprirà in cose molto più gravi e anzi non potrà mai più fidarsi di lui cercherà di scappare cosa che però le verrà impedite eccetera eccetera Elizabeth è un personaggio che è difficile amare perché Elizabeth rappresenta tutto ciò che forse noi odiamo in una persona quando non si presenta mai con spontaneità quando calcola ogni mossa che fa però da un lato secondo me a un certo punto arriviamo a una comprensione molto profonda di questo personaggio durante la lettura e arriviamo a capire e nei suoi panni nella sua epoca perché dobbiamo un po' immergerci in quello perché è facile dire ora ma ci sarebbero stati altri ma una volta non era così tanto che c'è una scena in cui lei viene rinchiusa in un manicomio proprio perché cerca di ribellarsi quando noi capiamo e ci immergiamo nella sua realtà proviamo un profondo senso di empatia e di simpatia nei suoi confronti anche pur non condividendo quello che lei fa e ha fatto per tutta la sua vita perché in fondo scopriamo che è una persona senza involucra è una persona molto nuda molto sola che vuole sopravvivere perché quella di Elizabeth è una storia di sopravvivenza e pur non condividendo nulla essendo spaventati continuamente da ciò che lei e dal livello che lei arriva ad accettare di follia da parte di Victor altrettanto lo vediamo nei suoi confronti diventa una persona ossessiva spaventata terrorizzata e questo la spinge ad agire sempre in maniera più subdola per me Elizabeth è un personaggio riuscitissimo perché nel suo essere spaventato dal prossimo fatica a capire come fidarsi di qualcuno che invece potrebbe diventare un suo alleato cosa che avviene molto tardi nel libro e in maniera inaspettata quello è stato un twist che secondo me è stato molto intelligente e acuto insieme a Elizabeth noi vediamo Victor vediamo Victor come la rappresentazione forse della società tutta e di come estremizzando Victor nel suo essere al di sopra di tutto e tutti in parte anche per la sua condizione sociale si permette di andare oltre se gli viene concesso davvero di fare qualsiasi cosa nonostante sia chiaro che sia una persona instabile che sia una persona malata e folle eppure mentre a lui tutto viene perdonato finché ovviamente non dovrà scontrarsi con la giustizia e con i conti che dovrà fare con tutti a Elizabeth ogni cosa viene contata viene sempre tenuta sulle spine soprattutto anche dal padre di Victor che continuamente le ricorda che lei non è parte della famiglia lei è lì solo perché Victor la vuole lì e si fida di lei e tutto verrà messo in discussione secondo me questo è un libro molto scuro molto strano perché ti introduce a un personaggio molto controverso che è quello di Elizabeth che è un po' lo specchio di Victor sono due persone malate per motivi diversi e che hanno una storia molto diversa tra di loro e che però vengono uniti dalla follia e ciò che un po' li dividerà a un certo punto è come vogliono utilizzare le proprie vite la propria genialità la propria intelligenza eccetera per metterla a servizio di qualcos'altro Elizabeth non ce l'ha ben chiaro ma proprio neanche per sbaglio Victor sceglierà di applicarlo ovviamente come tutti sappiamo in Frankenstein creando la creatura ma non fermandosi lì andando sempre oltre spostando sempre di più l'asticella di ciò che è accettabile o meno per me questa lettura è stata estremamente interessante perché seguiamo solo personaggi controversi che però rimangono fedeli a loro stessi quindi non è che abbiamo la grande svolta a un certo punto tutti diventano buoni e tutti si vogliono bene no fino alla fine noi assistiamo a qualcosa che non può piacerci perché noi non la possiamo apprezzare la scelta di Elizabeth anche se la possiamo comprendere quello è tutto ciò che noi possiamo restituire a questo personaggio eppure secondo me io mi ricordo proprio nell'ultima scena nella penultima scena l'ultima scena il prologo ho visto cioè ho visto proprio l'umanità totale che ha questo personaggio proprio le sue insicurezze le sue debolezze tutte svelate perché fino a quel momento lei è vittima è una vittima di ciò che le è capitato attorno è una vittima che ha cercato di destreggiarsi all'interno della sua storia in maniera opinabile ma secondo me Kirsten White è riuscita a restituirci un personaggio e dandole un sacco di giustizia dandoci una visione di qualcosa che magari non pensavamo di poter amare di poter sentire vicino a noi eppure pur nella follia a Elizabeth finisci per volere bene Elizabeth non la capisce è un personaggio folle per tutto il libro c'è questa sorta di linea non definita tra il disgusto per ciò che fa e la comprensione o comunque l'accettazione che un po' te lo porti dietro fino alla fine non riesci proprio a distanziarti da questo non arrivi mai ad essere totalmente convinto totalmente felice delle scelte di Elizabeth eppure le rispetti perché ti rendi conto che non avrebbe mai potuto fare altrimenti a parte tutto ciò vi dico l'arco narrativo secondo me è molto contemplativo cioè lo stile riflette soprattutto la psicologia del personaggio perché ci deve davvero portare dentro la testa di Elizabeth anche in maniera ossessiva e ripetitiva ed è solo così secondo me che si può capire l'ossessione di un personaggio come Elizabeth Frankenstein noi rivediamo un po' nella sua storia quell'umanità che avevamo visto con il mostro perché sappiamo che il mostro è esteriormente grottesco un errore una scelta che non dipende da lui il mostro vuole essere amato cerca di essere amato e allo stesso tempo Elizabeth vuole essere amata vuole appartenere a qualcosa perché non è mai appartenuta a nulla e non sarà Victor sicuramente a darglielo come Victor non lo ha dato al mostro l'amore e in questo crescendo che noi viviamo grazie proprio alla scrittura la White come fa a far crescere questa tensione noi partiamo da uno stile un po' più contemplativo dove scopriamo che cosa passa nella testa di Elizabeth fino alla tensione massima a momenti esasperati a una scala di crescendo di orrori di azioni delittuose di follia perché la storia poi concide con la storia di Victor cioè diventiamo folli insieme a lui però tifiamo per Elizabeth perché deve sopravvivere come deve sopravvivere il mostro in Frankenstein deve sopravvivere anche Elizabeth la nostra eroina anche se è un'eroina molto antieroina niente io difficilmente in questo caso riesco a fare una recensione lucida ci sono un po' di cose che non mi hanno convinto appieno effettivamente un po' è difficilissimo entrare in empatia con questo personaggio eppure riesce quindi questa lentezza io l'ho apprezzata questo svolgersi della storia nella psicologia di Elizabeth mi è piaciuto credo sia da un lato un po' una rappresentazione della condizione della donna e una denuncia anche di ciò che poteva fare la donna però non è solo questo cioè lei rappresenta la donna ma rappresenta anche un individuo spaventato e che vuole essere amato quindi è una cosa che un po' esula forse solo dalla denuncia femminile che un po' piace tanto e va tanto di moda in questi retelling di adesso le riletture in chiamare moderne c'è questo elemento sicuramente ma secondo me si parla soprattutto di umanità quindi riprende il tema di Mary Shelley e paga proprio a Mary Shelley un tributo secondo me molto rispettoso valido e che però ci dà una prospettiva completamente innovativa e nuova su un personaggio nuovo che noi non conoscevamo più di tanto quindi non lo so a me è piaciuto molto perché indaga tutte queste questioni ci sono delle cose che non mi hanno convinta a pieno come i personaggi secondari che alcuni sono un po' provvidenziali altri come ad esempio la famiglia di Victor li trovo molto giusti altre cose sono un po' casuali non un po' inspiegabili o comunque potevano essere raccontati un po' però questa è un po' la storia di Elizabeth quindi capisco le scelte e mi è piaciuto anche l'arrivo del mostro perché il mostro è un po' lo specchio di Elizabeth vivono entrambi la stessa condizione non mi ha convinto troppo a pieno la storia di background di Elizabeth perché secondo me è un po' buttata lì poteva essere esplorata un po' di più o comunque avere un significato ancora maggiore all'interno del romanzo invece cioè si capisce perché c'è e ci sta però poteva avere più significato è vero che è un out conclusivo quindi ci sta è anche molto breve molto scorrevole cioè scorrevole insomma è una storia abbastanza pesante quindi io l'ho divorata perché stavo amando tutta l'intera narrazione però capisco che sia anche un po' impegnativo dal punto di vista della lettura quindi niente insomma ci sono alcune cosine che secondo me non sono proprio brillanti ma la storia di Elizabeth è assolutamente qualcosa che vi rapirà perché è un personaggio come pochi altri forse vedrete quindi niente io ringrazio di nuovo Kirsten White perché lei sta realizzando tutti i miei sogni io sono felice ne sono veramente super contenta adesso deve solo azzecare Slayer e poi ufficialmente entra nell'Olimpo proprio di fianco a Labour cioè no di fianco po' alla destra della madre però può star lì detto ciò detto ciò ringrazio anche HarperCollins che mi hanno mandato una copia in italiano è tradotto davvero molto bene ci sono solo alcune cosine macchinose ma ve la consiglio come traduzione è ottima il livello di inglese invece è tendente all'intermedio quindi non è proprio un entry level è un intermedio però accessibile sicuramente se avete fatto un po' di pratica in lingua e direi che questa è un po' la mia recensione un po' a caso come sempre di The Dark Descent of Elizabeth Frankenstein ovvero la buia discesa di Elizabeth Frankenstein fatemi sapere se lo avete letto se avete intenzione di leggerlo ci sentiamo giù nei commenti io direi che per oggi è tutto se il video vi è piaciuto mettete un mi piace iscrivetevi al canale e attivate la campanellina solite robe giù trovate tutti i link di affiliazione io come sempre vi ringrazio spero di avervi tenuto in compagnia e ci vediamo alla prossima ciao